We like to talk Una soluzione europea per un problema europeo La legalizzazione della cannabis È semplicemente un invito rivolto alla Commissione Europea affinché essa proponga un atto legislativo Il problema è che bisogna raggiungere un milione di firme Un milione di firme in tutta Europa Ma quali sono gli obiettivi principali? Punto A. Assicurare l'uguaglianza davanti alla legge di tutti i cittadini singoli dell'Unione Europea B. Tutelare i consumatori e monitorare la produzione e la distribuzione C. Controllare il traffico di cannabis L'iniziativa scade il 21 novembre 2014 Quindi abbiamo abbastanza tempo Ma non rilassate Abbiamo bisogno di queste firme Ma non rilassate Ma non rilassate Ma non rilassate moderni Tra le cosiy La società La società 했i La società Zamin George sulla Як in FacΔ Radio Qua Sesta festa provinciapos